Io invece sono sempre stata forte, ho sempre preso bei voti, e invece l'ultimo anno è stato duro. Quattro in greco! Papà, lo so, mi dispiace, io non so che dirvi, lo so... Non ci posso, crede, ma cosa mi devi venire? Lo sai che ci danno agli studi? Mi danno il rilostro e di che lo recupero. Lo recupero, sì, te li stai tutta l'estate con nonna a studiare, mentre io e mamma ce l'andiamo in vacanza, tu non vai in Grecia! No, balli! La Grecia no! Dai papà, no! Quella doveva essere la...